Musica Riprende nuovamente la nostra rubrica Economia Reale Dopo la pausa estiva quali le scadenze del mese di settembre? Le scadenze di settembre sono sempre quelle ordinarie cioè il pagamento del IVA relativo al mese precedente il pagamento dei contributi e delle ritenute verso i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti del mese precedente ma la scadenza più importante che avremo nel corso del mese di settembre è la presentazione del modello unico per le società di capitali per le società di persone, per le ditte individuali nonché dei privati cittadini, quindi dei normali contribuenti che la scadenza è fissata al 30 settembre prossimo e va trasmessa telematicamente dagli intermediari abilitati Dal 1 ottobre parte un nuovo obbligo per il pagamento delle imposte di cosa si tratta? Noi sappiamo tutti gli operatori e anche le imprese che sono obbligati a fare i propri pagamenti con la F24 da un punto di vista telematico quindi trasmesso attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate Adesso questo obbligo è steso anche ai normali contribuenti sarebbe i titolari non di partita IVA quindi i contribuenti del cittadino o comune Che cosa succede? Che il titolare non titolare di partita IVA è obbligato per imposti superiori a 1000 euro a versare l'imposta dovuto oppure i contributi dovuti attraverso il canale telematico La stessa cosa vale anche per imposti inferiori ai 1000 euro quando è prevista all'interno del modello F24 la compensazione di crediti Analizziamo ora un po' la situazione tante imposte da pagare giovani che non trovano il lavoro vogliamo fare il punto? Ma è un discorso molto complesso che richiede effettivamente forse molto tempo Noi abbiamo programmato attraverso la posta emittente una trasmissione proprio su quello che è un'analisi generale dell'economia in particolare dell'agronomia sennese qui nel nostro territorio però indubbiamente non possiamo nascondere quello che è il momento difficile che viviamo noi abbiamo un debito pubblico che oltre qualsiasi immaginazione è uno dei debiti pubblici più alti chiaramente con tutto questo che cosa succede? Che lo Stato per coprire e mantenere gli obblighi assunti presso la comunità europea ha bisogno praticamente di fare dei provvedimenti che consentono e una riduzione della spesa pubblica e allo stesso tempo un incremento delle entrate però nel momento in cui abbiamo una crisi industriale non si produce, chiaramente il governo può fare solamente azioni verso il taglio delle spese però ha difficoltà nel reperire nuove entrate tutto questo poi è dovuto anche a una problematica che il governo attualmente non sta provvedendo praticamente a emanare provvedimenti che consentono la ripresa della produzione di tutto questo chiaramente ne risentono anche i nostri giovani che non trovano occupazione qui mi corre anche l'obbligo di fare una precisazione che i giovani devono provvedere anche un attimo a dare una regolata nel senso che è pur vero che il lavoro manca però è pur vero che pochi lo cercano ma bisogna avere anche la disponibilità ad adattarsi anche a quelli che sono lavori che possono essere umili oggi bisogna cercare di guadagnare e non dire che cosa faccio ed è una specializzazione diversa di quello che ho potuto conseguire una laurea per esempio di un percorso formativo perché aveva una determinata specializzazione oggi bisogna adattarsi al lavoro e noi ringraziamo il dottor Franco De Filippi si appuntamento alla prossima e noi ringraziamo il dottor Franco De Filippi